Mentre Alessandro Botturi si toglie credo la roba un pochino umida, vediamo se riusciamo a metterti un pochino, un pochino giusto un pochino, infatti ho visto lo stand di biancheria, temo che in questa gara sarà fondamentale uno degli accessori fondamentali della Dacar 2016, quindi insomma partiti stamattina pronti e via, fatti quei 190 cos'erano di trasferimento? Erano 3.30, no, tutto, no no, 3.30 arrivare all'interno speciale, siamo partiti alle 4, esatto, dovevamo entrare alle 8 il primo, dopo 4 ore a fare 330 km e poi alla fine non l'abbiamo fatta, l'abbiamo fatta ancora un 200 km, anche di più mi sembra, sotto l'acqua sempre? La fine non l'abbiamo fatta ancora un 100 km di asfalto, sotto l'acqua Madonna, è così Ascolta, ieri il prologo è realizzato a un benino Sì, dai, un dicesimo, non ho scritto, non credo rischi dubili Bravissimo Io ho detto che per me la gara è sempre lì dai 10 e guardare dopo dove si può andare E adesso aspettiamo domani per capire che cosa succederà domani E infatti aspettiamo il briefing stasera per saperne di più Grazie, ti lascio asciugare Ciao